benda verona benda verona benda verona benda verona allora buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti tifosi di entrambe le squadre perché seguiremo questo stuzzicante verona e ovviamente commenteremo e seguiremo anche la roma e il discorso lukaku pontatina di calcio mercato che andremo a reperire in questi giorni in queste ultime ore di contrattazioni vedremo quali saranno le evoluzioni quindi devastate di like condividete il video guardatevi tutti gli altri video e le live fatte in precedenza con questa maledetta contemporaneità delle partite che dopo la terza dopo la sosta se non sbaglio dovrebbe finire ho seguito il milan settimana scorsa quest'oggi volevo godermi questo derby questa partita verona roma perché ero sicuro che sarebbero venute fuori delle effervescenze che sarebbero venute fuori delle sorprese perché il verona sta facendo un mercato che mi piace parecchio devo dire con diverse intuizioni e operazioni interessanti di pasta e foggia soglianiana si respira un'aria frizzante come la si respirava il primo anno i primi due anni di ciclo dell'ellas verona dal ritorno in serie a non sarà ovviamente una stagione da prendere sotto gamba o non è che ci si deve illudere adesso che tutto sia fatto assolutamente no o di essere invincibile o di non avere problemi assolutamente no però insomma due partite neanche così scontate perché la prima era ad empoli la seconda affrontavi comunque la roma verona a punteggio pieno che comunque mette fieno in cascina per la salvezza detto questo al contrario della roma al contrario della roma perché adesso o delà di quello che sarà il discorso di lukaku che comunque io vi spoilerò già non è che da solo ti fa passare la roma da come si sentiva dire molti squadra da settimo ottavo posto a squadra da scudetto perché abbiamo sentito questo no ma soprattutto hai affrontato questo inizio di campionato che se l'obiettivo era barra doveva essere quello del ritorno in champions ti presentava anche un inizio abbastanza non agevole ma comunque aggredibile perché giocava in casa contro la salernitana una salernitana ancora work in progress e un verona che era sulla carta battibile su sei punti disponibili ne fai uno e settimana prossima dovrai affrontare un milan lanciato un milan gagliardo un milan anche superiore sulla carta e all'olimpico rischia già di essere non voglio dire un dentro fuori per la zona champions perché siamo la terza giornata però una roma che dovesse perdere magari perdere anche rovinosamente contro il milan certo dovrebbe dopo ci sarà anche la sosta quindi ci sarà un piccolo stacco diciamo che l'inizio non è che sarebbe dei migliori ma quella sarà un'altra partita lì andrà valutato anche il milan valutiamo questa gara qua allora io inizio dal verona quello che mi è piaciuto del verona ovviamente non è che anche comprensibilmente non è che oggi il verona lo si sia apprezzato lo si possa apprezzare dal punto di vista magari delle trame di gioco del possesso del giochismo ma lo si può apprezzare per tutto il resto perché è un verona che ha fatto una partita veramente solida un verona costruito bene fisicamente ok quando io parlo della fisicità anche tra le componenti importanti da valutare ecco voi guardate la distribuzione della fisicità qualcuno pensi alla fisicità no come il meme dei simpson ecco il verona è una squadra in cui la fisicità è distribuita veramente in modo omogeneo e bene perché c'è i due bei marcantoni in difesa come davidovic come hyen che hanno fatto un'ottima partita aperta parentesi aperta parentesi al di là del discorso territorialità arbitraggio che non mi è piaciuto per niente parte che non si possono vedere 13 minuti di recupero nel secondo tempo dove cazzo erano quei 13 minuti di secondo tempo che la maggior parte delle perdite di tempo come al solito hanno fatto i romanisti che andavano a battibeccare con l'arbitro ad ogni fallo ma poi anche quello su hyen secondo me non era assolutamente rosso non era una chiara occasione da gol era lontano dall'area di rigore c'era un difensore accentuare che poteva tagliare andare a prendere il giocatore il contrasto era anche assolutamente sporco non era un intervento netto a falciare sulle gambe gli avevi dato il giallo secondo me bastava e avanzava se è andato al vara è ritirato fuori rosso comunque a parte questo dicevo ottima partita di davidovic ottima fisicità anche a centrocampo ho visto delle grandi partite ho visto una partita maestosa di ongla che non avevamo mai visto giocare a questo livello la partita di folo run show la partita di folo run show a livello anche lui di fisicità di strappi ha fatto monire diversi giocatori è uno che ci ha messo veramente il fisico l'impegno era su ogni contrasto ha fatto anche interventi salvifici in difesa e poi quando hai diuric insieme a davidovic nelle palle nelle palle inattive è sempre tanta roba è sempre tanta roba infatti nell'ultimo nell'ultimo frangente di gara sebbene poi comunque il verona oltre a questo si sia visto nella sconcentrato veramente una concentrazione da applausi del verona quest'oggi un verona veramente concentratissimo cattivo cinico determinato queste sono cose importanti queste sono cose che ho notato che riconciliano un po no con lo spirito del verona se bisogna trovare due pepituzze proprio migliorabili sono il fatto che sulla parte finale di partita magari hai sentito un po la mancanza di diuric perché è veramente uno che sulle palle inattive con una squadra come la roma che è veramente difficile da affrontare da quel punto di vista lì l'avresti voluto in campo e poi magari la capacità di tenere un po di più il pallone quella è una cosa che ti poteva fare saponare entrando un po prima che ti potrebbe fare un centrocampista un po più abile di quelli da battaglia che hai capito però il verona solo applausi perché ha fatto veramente una gara di sacrificio ma di cinismo di fisicità di intensità veramente importante veramente importante la roma allora uno va a vedere magari le statistiche ok e dice la roma ha fatto la partita la roma ma devi vedere anche come hai fatto la partita io vedo sempre quando vedo giocare la roma e lo si è visto anche contro la salernitana vedi una squadra che si fa mole di gioco fa mole di possesso perché in campo anche giocatori dotati di discreta tecnica è più forte delle avversarie contro cui mediamente va sotto quindi recuperando la partita a lei l'onere di doverla fare però devi vedere anche come la fa e come si rende pericolosa nel farlo è una squadra nella quale vedo pochissimo lavoro codificato cioè vedo un possesso palla che cerca sempre di passare attraverso il lancio il cross per la spizzata la giocata individuale la serpentina individuale ma raramente vedi delle sovrapposizioni raramente vedi delle triangolazioni provate in allenamento ripetute cioè non vedi un'identità di gioco che poi sia sempre al solito discorso e sia sempre lì poi tu puoi metterci puoi imbottirla di fuoriclasse la squadra però c'è veramente poca poco sostrato tattico dal punto di vista del gioco codificato dell'identità di gioco della manovra di gioco della fluidità di gioco della velocità nel trovarsi anche paredes oggi ho letto se si è scritto paredes inguardabile ok infatti è stato tolto il 45esimo con ancora christensen anche lì anche lì poi sulla carta se ti arriva lukaku c'hai una buona difesa sulla carta un buon centrocampo sulla carta c'hai un buon attacco però se parliamo del portiere che non ha certo iniziato bene c'ha un'età e delle fasce le fasce le fasce io avevo indicato mazrawi e renan lodi come fasce le fasce della roma christensen ancora sostituito devi far giocare il sharawi fuori ruolo perché non ne hai di 5 6 non ne fai uno fino in fondo o tutta gente fuori ruolo e comunque ripeto anche paredes è uno che si esalta ripeto non giocando in squadre così dove non c'è sostrato devi metterlo in squadre dove a livello tattico vedi qualcosina di più e anche qui ripeto iniziano ad andare via punti in una lotta comunque nella quale nella quale già vedere una ripeto tra napoli inter milan e juventus fuori dalla champions sarà dura inizi a buttare via tutti questi punti si fa ancora più dura e adesso avrai il milan e ripeto quello che è lampante ma lo è da anni da mesi che lo si dice nella roma è che sembra sempre tutto in mano all'iniziativa individuale al fomento individuale alla alla grinta o meno che c'è alla al culo se riesci a intivare un lancio una palla lunga una palla inattiva un angolo un corner ma no devi 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 metterci di più e questo è un lavoro che deve fare deve fare il mister deve fare il comparto tattico tecnico a livello di gioco di velocità di esecuzione di capacità di trovarsi di orchestrare una manovra un'identità di gioco alla roma manca terribilmente questo in partita lo senti lo senti nel farla perché poi ti imbucano lo senti nel recuperarla perché non ne hai gli strumenti fino in fondo anche contro squadre così e son punti che se ne vanno un caro saluto